La vita quattro fasi, l'infanzia, l'adolescenza, la gioventù e per ultimo la vecchiaia, quella che noi tutti, chi più chi meno, stiamo vivendo, parlo di noi, ma dobbiamo viverla come un dono, ringraziando Dio di essere sicura. A mio parere quello che offende di più un anziano è essere trattato come un bambino. Noi non siamo bambini, un bambino si sta prendendo la vita, noi la stiamo chiudendo, stiamo chiudendo una vita fatta di gioie, di dolore, di affanni, e così sono passati gli anni. Ma dobbiamo viverla per quel che ci resta con serenità, sperando che siano ancora tanti anni da passare sempre con tutti noi in compagnia. Grazie. 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 Grazie.